Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Buon pomeriggio, benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta, quest'oggi nella seconda parte, parleremo di un'iniziativa che ha a che fare con culto musica, poi ci sarà Semeraro e un altro ospite, il presidente dell'associazione Giuliani in Brasile che ci spiegheranno meglio di cosa si tratta. Nella prima parte siamo in compagnia del dottore Andrea Di Lenarda, direttore della struttura complessa di patologie cardiovascolari con il quale parleremo del nuovo dipartimento territoriale e del progetto Smart Care. Da che cosa cominciamo, dottor Di Lenarda? A quel che vuole. Allora parliamo del nuovo dipartimento. Saluto tutti, auguro a tutti una buona estate, proteggendosi da questo caldo a foso e non uscendo in queste ore centrali della giornata perché è veramente terribile e bere molto soprattutto alle persone anziane. Questa è una notizia direi abbastanza interessante e abbastanza importante perché con l'azienda sanitaria universitaria Giuliani Zontina abbiamo meditato per un po' di tempo durante il periodo Covid e abbiamo trovato il coraggio, io ringrazio la direzione per questo, di accogliere e di provare una sfida, la sfida di riorganizzare il territorio della provincia di Trieste e della provincia di Gorizia in un senso diverso, cioè uscire dallo schema rigido richiede una prestazione ed esegue una prestazione, un esame che rimando al medico curante, uscire da questo schema rigido, ingessato e poco efficiente e invece passare a una presa in carico che non è la classica già nota presa in carico, la nostra struttura da tanti anni prende in carico i pazienti cronici con infarto, con scompenso eccetera, ma passare a una presa in carico integrata tra più specialità, cioè passare dalla visione della malattia, l'infarto, alla visione del paziente cronico che può avere l'infarto, la broncopneopatia cronica o il diabete o l'insufficienza renale, può avere diverse patologie, infatti questo dipartimento è costituito da 4 strutture, la nostra, patologie cardiovascolari, quella del professor Candido, patologie diabetiche, del dottor Roberto Trevisan, patologie respiratorie e dell'autoressa Emanuela Bosco per la reisontina, patologie, nefrologia e dialisi. Quindi abbiamo messo insieme, a parte l'oncologia, tutte le malattie che fanno star male o che rendono malato il paziente cronico, pensando al paziente, non pensando alla singola malattia. Questo è un cambio di paradigma. Va incontro a quel criterio di collegialità di cui molto spesso si parla? Devo dire la verità, ormai non soltanto quando si trattano problematiche collegate alla sanità, ma anche quando si parla anche di ricerca o di altro o è qualcosa di leggermente diverso? La ricerca in genere va a analizzare il singolo problema per approfondire e sviscerarlo a fondo, perché più problemi metti insieme più è difficile poi separare le varie componenti e comprenderlo bene a fondo. Va invece, è coerente con questa idea inevitabile che parte dalla demografia, cioè da come la nostra popolazione è costituita sempre di più in questi anni, di persone anziane che solo raramente una volta che arrivano a 65-80 anni hanno una malattia sola, quasi sempre hanno più di una e non si capisce perché le si debba curare su percorsi paralleli che non si toccano mai, per cui ognuno fa una prestazione o più prestazioni, chiede un esame o più esami, dà una o più terapie, tutti separatamente e tutti continuano su binari. Questa è una ridondanza, determina una ridondanza di percorsi, crea il professionista della lista d'attesa. Noi abbiamo la città piena di professionisti anziani della lista d'attesa, se lei va in giro, lei che vede un uomo di mondo e conosce tante persone, se lei incontra una persona anziana e chiede a lei in quante liste d'attesa è, risponderà due, tre, quattro, aspetto unico, aspetto una cosa, aspetto questo, aspetto quale, non se ne può più onestamente. Noi stiamo creando, abbiamo già creato, cercheremo nei prossimi due, tre anni di completare questo percorso, creando tutta una serie di percorsi interni al Dipartimento, per cui quello che vorremmo alla fine di questa riorganizzazione è che il paziente che viene da me o da un altro cardiologo e ha anche un problema pneumologico, diabetologico, nefrologico, non esce con la scritta, si prenoti una visita pneumologica, nefrologica, diabetologica, ma esca con la scritta, abbiamo per lei richiesto un teleconsulto, una visita pneumologica all'interno del nostro Dipartimento e noi gli diamo l'appuntamento, non deve rincorrere al medico curante, fare la richiesta, andare al cup e aspettare tre mesi per la visita pneumologica, in base all'urgenza che noi definiamo, abbiamo il percorso interno, l'agenda interna, il cellulare dedicato e noi automaticamente programmeremo quel che serve d'accordo col diabetologo, col pneumologo, col nefrologo, cercando di uscire da questo schema impossibile, ormai diventato impossibile, della richiesta, prenotazione, lista d'attesa eterna, prestazione, torna indietro, un altro esame, lista d'attesa. C'è una struttura che fa da coordinamento? Dipende dal paziente, la domanda è perfetta, come sempre, è molto acuto nell'osservazione, la domanda è sbagliata, ma in realtà è perfetta, nel senso che è ovvio che no, perché non è che esiste il cardiopatico, viene prima degli altri, la risposta è sì, perché in base al tipo di paziente c'è una struttura che guida, quello più malato respiratorio avrà la struttura respiratoria, che guida e gli altri supportano, il grave cardiopatico avrà la cardiologia che guida e gli altri supportano. È chiaro che se qualcuno è così sfortunato ad essere grave cardiopatico e grave broncoplemopatico, ne avrà due che guidano, perché tutti devono essere visti. Però ecco, la domanda era assolutamente corretta, perché l'idea è quella di creare un, come si dice adesso, case manager, chi prende in mano la situazione preferenziale in base al tipo di paziente. Ogni paziente ha il suo riferimento principe che dipende dalla sua problematica o più severa o attiva in quel momento. È possibile che… Mi piace? Sì, è possibile che si aggiungano altre strutture oppure per tutta una serie di ragioni… Quindi a botto cari equilibri politici un po' complicati, non lo so, i dipartimenti in genere hanno queste dimensioni, 4-5 strutture complesse, tutti i dipartimenti. Tutto può essere, però diciamo che se noi andiamo a contenuti, la domanda che si può porre è che cosa manca della cronicità al nostro dipartimento? E la risposta è manca l'oncologia. Detto questo, l'oncologia che sta facendo enormi passi avanti negli ultimi 10 anni, 15 anni, è ancora in una fase, non sto dicendo che è indietro, non voglio dire questo, ma dal punto di vista organizzativo, è ancora una, forse lo sarà sempre per sua natura, una branca che ha il filone del singolo tumore. Curo il tumore, faccio la chemioterapia e seguo quel tumore, non siamo ancora entrati nella fase della cronicità della malattia oncologica che a quel punto potrebbe stare benissimo bene il nostro dipartimento. In questo momento l'organizzazione è ancora diversa, probabilmente lo sarà ancora per molto, se manca qualcosa manca l'oncologia e poi abbiamo tutte le patologie croniche, credo che già così abbiamo abbastanza. Mi pare invece di, adesso per l'amor di Dio non mi addentro, rimango sulla soglia di un territorio che conosco, sono l'altro per aver parlato con lei o con qualche suo collega, per quanto riguarda forse ematologia è più presente questa, chiamiamola consapevolezza? Consapevolezza di cosa? Cioè del fatto che un paziente che abbia dei problemi ematologici possa, come dire, possa averne anche altri di problemi e quindi, oppure anche lì è lo stesso, più o meno lo stesso discorso? No, no, diciamo, tutte ovviamente possono dare questa consapevolezza, non credo che l'ematologia sia particolarmente diversa dalle altre, le faccio un esempio diverso, la maggior parte delle malattie respiratorie, ma diciamo anche chi si ammala di cuore, il diabetico si ammala di cuore, chi ha un'insufficienza renale spesso si ammala di cuore, chi ha una malattia polmonare non è che si ammala di cuore per chi è malato polmonare, ma spesso ha gli stessi fattori di rischio, per esempio il fumo di chi è malato di cuore, quindi diciamo che la consapevolezza nasce dal fatto che spesso inevitabilmente in presenza di una malattia che ha un substrato di fattori di rischio e di causa di un certo tipo, automaticamente il curante, lo specialista, ma anche il paziente stesso che legge su Inter si rende conto, urco, io mi sono ammalato di polmone, ma essendo un grande fumatore sono a rischio anche per il cuore, oppure mi dicono che il rene non funziona, se il rene non funziona forse perché ho il diabete, eh sì, se il rene non funziona perché ho il diabete, però se il rene funziona anche il cuore a quel punto soffrirà, è tutto incastrato. In questa nuova realtà, per certi aspetti curativa, qual è il ruolo del medico curante proprio, del medico di famiglia? Il medico curante in realtà ha un ruolo che rimane fondamentale esattamente come prima, perché non è che, possiamo dire un po' sorprendentemente che il medico curante qualche volta si è, qualche volta negli ultimi tempi ha manifestato anche nei miei confronti una certa preoccupazione, rispetto a questo sistema nuovo, come se noi volessimo togliere ruolo alla medicina generale, cosa che ovviamente non è. Il medico curante invece di essere quel vigile che riceve la richiesta, la lettera del cardiologo che rimanda il paziente al diabetologo e chiede la vista diabetologica e poi la riceve e la rimanda, che è un ruolo amministrativo burocratico che ha stufato un po' tutti, giustamente. Il medico curante avrà da un lato riceverà un referto che risponde della salute del suo paziente globalmente e non della malattia, dall'altro stiamo attivando, aggiungo una componente, stiamo attivando, stiamo attivando con la regione da un anno e abbiamo cominciato adesso le prove tecniche e a settembre cominceremo a utilizzare la piattaforma digitale che la regione con i soldi del PNRR ha acquisito, cui io ero una delle persone che hanno preparato il bando e hanno lavorato su questo aspetto, che permetterà non solo tra di noi nel Dipartimento di rendere ancora più facili gli scambi di opinione al singolo paziente, ma il medico curante di confrontarsi con noi sul singolo paziente, quindi il medico curante avrà solo che vantaggi e lavorerà meglio. Da quanto avete lavorato a tutto ciò? Da un 3-4 anni mi pare di un periodo pandemico? La prima richiesta, ma nessuno mi ha badato, è stata fatta nel 2014, nel 2014 ho cominciato a parlare ai direttori generali che si succedevano e l'interesse è stato un interesse probabilmente sincero, ma tutto sommato generico, abbiamo altre priorità. Poi invece nel 2019 questa direzione ha proposto questa cosa avendo una memoria storica del passato, anche se non era questo direttore generale, ma c'era il direttore sanitario, il direttore san maggiore che aveva partecipato a discussioni precedenti, c'era questa memoria storica all'interno della direzione e mi hanno proposto di riprendere in mano perché loro volevano cogliere questa occasione, questa opportunità e questa sfida. Poi ci siamo fermati due anni e mezzo per il Covid e siamo arrivati adesso, se no l'avremmo iniziato nel 2020. Allora, adesso so che questo verbo è agghiacciante, però è di moda. Ci sono possibilità appunto di implementazione di tutto ciò? O voglio dire l'implementazione, è proprio questo coinvolgimento diverso dei medici di famiglia, mi pare di capire. Ma l'implementazione è quella che dicevo prima, il grande avanzamento è l'organizzazione interna, nel senso che rispetto ai binari paralleli è la gestione del paziente e non della malattia. Io credo che l'implementazione della piattaforma digitale che è stata acquisita dalla Regione e la medicina generale dovrebbe permettere, se la medicina generale avrà la forza di mettersi in gioco, veramente una comunicazione molto più agile con il mondo degli specialisti e anche col mondo ospedaliero e quindi realmente cominciare a lavorare insieme, cose che adesso è sulla carta ma in genere non avviene. Adesso si lavora insieme attraverso un foglietto di carta o attraverso la recettazione elettronica, ti chiedo una prestazione e tu mi rimandi un preferito. Avendo una piattaforma con cui sei collegato, è chiaro che poi se una persona non conosce bene il paziente non ha voglia di esporsi, però molti medici medicinali sono molto bravi, sono formati, sono giovani che stanno crescendo e quindi avranno la possibilità di parlare ogni giorno con noi e noi riorganizzeremo l'attività interna per poter parlare con loro da un lato. Dall'altro lato ovviamente la continuità ospedale-territorio che è uno dei grandi punti critici, che a Trieste in realtà da sempre funziona abbastanza bene, si può migliorare ovviamente, permetterà di comunicare sempre questa piattaforma tra ospedale e territorio in maniera molto più agile. Quindi un'implementazione verrà dalla digitalizzazione della sanità che non è un'ipotesi, l'abbiamo già comprato, noi tecnici stiamo già testando, non è operativa dal sistema e quindi quella sarà la grande implementazione del 2024. Parliamo invece del progetto Smart Care. che in parte è collegato a quanto stiamo dicendo perché è stata sperimentata in questa regione, capofila eravamo noi, della mia struttura e noi come azienda, nel 2013-2016 questo progetto Smart Care di telemonitoraggio del paziente cronico a domicilio. E a conferma di quanto le dicevo prima, chi erano i pazienti che venivano telemonitorati, scompenso cardiaco, bronco, pneumopatia cronica e diabete e melito e siamo sempre là, capisce che alla fin fine non è che facciamo cose molto diverse, non abbiamo tanta fantasia. Quel progetto ha dimostrato che seguire a domicilio pazienti con queste tre grandi malattie poteva prevenire che erano stati ricoverati recentemente in ospedale e che erano stati dimessi, permetteva di mantenerli a casa in sicurezza risparmiando, brutta parola, magari evitando nuove ricoveri. Quel progetto è andato molto bene. È andato così bene che il Ministero della Salute, un anno circa fa, in un'attività che si chiama Pongov, che significa governance, adesso non mi ricordo ma è indifferente. Questo progetto ha voluto ricercare, selezionare e promuovere e diffondere buone pratiche nazionali in tema di gestione della cronicità e telemedicina. Questo è stato uno dei 5 progetti selezionati come di rilievo e di interesse nazionale per la gestione del paziente cronico. Per cui sono stati degli incontri, sono stati delle relazioni, sono stati dei congressi, su questo ovviamente in collaborazione con la Regione, l'autore Sabbiatrice Del Frate è stata con me l'altra persona che ha promosso e diffuso questi contenuti e il Ministero della Salute, è una troupe televisiva del Ministero della Salute, è venuta qua il 1 giugno e ha prodotto un bel documentario che è in rete e che sostanzialmente descrive la storia, descrive i vantaggi, descrive le opportunità che questa buona pratica permette. È venuto molto carino. E continua la pratica? La pratica continua nella piattaforma digitale, perché il progetto Smart Care che si è chiuso perché era un progetto europeo finanziato che finiva lì, è stato il motivo che ha in qualche modo convinto, magari ce ne sarebbero stati anche altri, che dopo il 2016 per il successo che ha avuto, poi le elezioni, la giunta è cambiata, quel che era, ma sta di fatto che da quel momento ha iniziato un'interlocuzione con la politica che ha dimostrato interesse, che poi è arrivato il Covid, ma alla fin fine, con i soldi del PNRR, l'interesse di un progetto che già si era dimostrato efficace, è diventata la piattaforma che sarà sistema dal 2024. Quindi grazie a questo progetto Smart Care che era sperimentale su un numero relativamente piccolo di pazienti telemonitorati in tutta la regione, con un minimo di merito ce lo prendiamo, grazie a questo si è arrivati a questa piattaforma digitale che permetterà di rendere sistema, per la cronicità, la gestione di questi pazienti nella sua piattaforma. A proposito di domande formulate in un certo modo piuttosto che in un altro, adesso vedo di formularla nella maniera più seria possibile, però i progetti di cui abbiamo discusso adesso, sia il progetto Smart Care che eventualmente questa nuova fisionomia, questa nuova organizzazione della cura, denotano, vorrei ci fosse un termine migliore ma non mi viene in mente, una certa o fantasia o attenzione, cioè l'idea di non dare per scontato, mettiamola così, tutto ciò che funziona bene, ma di guardare a ciò che si può fare partendo, posso immaginare, da ciò che funziona bene, cioè bisogna essere, la traduzione è dall'inglese visionari, però la dice poco, bisogna avere intuito, avere fantasia, non fermarsi immagino. Sì, fino all'ultimo giorno. Noi cardiologi abbiamo avuto una grande fortuna a Trieste, una fortuna che ha cambiato la nostra vita e la mia vita l'ha cambiata radicalmente che è quella di incontrare, aver avuto la fortuna infinita di incontrare il professor Camerini. Il professor Camerini era una persona che ti diceva a qualsiasi ora del giorno o della notte e non bisogna, anche della notte e della domenica, che la curiosità non deve mai finire, che ogni cosa che tu incontri nella vita, ogni persona che tu incontri nella vita, ogni libro che tu leggi nella vita è l'opportunità per conoscere, capire, approfondire e crescere ogni cosa dal primo minuto all'ultimo minuto ed è un peccato sprecarlo quel minuto. Portandola alla sua domanda, credo che purtroppo, dico una cosa grossa adesso, l'impressione che il sistema sanitario pubblico, non sto facendo né polemica né accusa, ma l'impressione che sia una fase molto critica di salute, non dico che è moribondo, ma è molto critica di salute. Le politiche a sostegno del sistema sanitario pubblico sono molto deboli, è inutile continuare a comprare prestazioni pensando che possono ridurre le liste d'attesa quando mai lo faranno, mai lo faranno. L'unico modo se vogliamo salvare questo sistema che è il migliore al mondo è quello di fare continuamente innovazione, ricerca, avere visione e sapere dove andare oltre quello che è l'obiettivo di oggi e di domani, ma quello che è dopo. Allora, io sono grato a questa azienda perché ha deciso di seguire un'idea che era molto più facile non seguire, perché è un rischio, seguire un qualcosa che ti implica lavoro di anni, che vuole dire ribaltare un sistema che è abbastanza consolidato e che ha più probabilità di fallire che di vincere, però nella vita se puoi lasciare morire il sistema puoi cercare di salvarlo e per salvarlo devi trovare qualcosa di nuovo. E così la piattaforma digitale che è venuta per merito del Covid, è una provocazione ovviamente, il Covid ha fatto solo che male, ma per certe cose ha svegliato un torpore di fondo che probabilmente ci avrebbe dato la piattaforma digitale fra dieci anni e non fra due, ma abbiamo capito che in certe situazioni o cerchi di cavartere in qualche modo innovativo e la piattaforma digitale digitale, visto che tecnologicamente ormai è disponibile, la privacy eccetera, stiamo rischiando su come superare questa difficoltà di far scorrere i dati in tranquillità senza prendere multe dal garante della privacy, la piattaforma digitale è un'altra di quelle cose che farà innovazioni o credo possa ribaltare in qualche modo le prospettive, non è che con queste due cose salveremo il mondo, ce ne vogliono altre, però ecco, alla sua domanda è o cerchiamo con stimoli continui, curiosità e visione di trovare forme di innovazione, perché il mondo è cambiato, la popolazione è cambiata, i pazienti sono cambiati, la cronicità è cambiata, oppure semplicemente moriremo lentamente. Abbiamo tempo per un'ultima domanda, quanto c'è bisogno in una situazione in evoluzione come questa, non direi tanto della collaborazione, quanto della consapevolezza da parte del paziente dell'esistenza di questa realtà. Faccio un esempio che non c'entra, ma proprio per far capire, per esempio noi stessi per una forma quasi di ereditarietà, per esempio delle volte le ricette mediche ci arrivano sul cellulare e noi perdiamo del tempo a stamparle quando è ormai sufficiente andare in farmacia con la ricetta sul cellulare e quindi c'è un passaggio in meno per noi, magari il farmacista deve comunque stamparle, però deve esserci anche da parte nostra questa idea di… Ma avete ragione, io sono qua oggi per questo, noi dobbiamo cominciare, dico noi perché ci sono dei compagni di viaggio, il Dipartimento ha un centinaio di persone, quindi sono tante persone che lavorano a questo, dobbiamo certamente impegnarci di più per far conoscere questi nuovi aspetti organizzativi che la gente ancora non conosce bene, impara a conoscere chi ci frequenta perché è lì, ma gli altri non. E dall'altra parte dobbiamo anche grazie a tutto il pool di infermieri e di persone non mediche del nostro Dipartimento, come tutti gli altri, stiamo parlando del nostro, ma non c'è nessun, tutti sono importanti uguali, dobbiamo aumentare la consapevolezza di malattia delle persone, perché da un lato è bene che le persone siano consapevoli che esistono nuove forme organizzative per curarsi, tra l'altro lato devono essere responsabili nel curarsi, perché il dimenticarsi i farmaci, tutto quello che si vuole, non monitorarsi, non misurare la pressione, non fare quello che, dico in ambito cardiologico, non può essere qualsiasi altra cosa, per qualsiasi altra malattia rende anche queste forme organizzative del tutto inutili, perché è inutile sapere come potrei curare, ma intanto io non mi curo, quindi serve sicuramente responsabilizzazione, gli inglesi dicono empowerment del paziente e serve sicuramente da parte nostra la capacità, speriamo di averla, di costruirlo fino in fondo, abbiamo appena iniziato e di promuoverlo anche grazie a voi, anche grazie alle televisioni, grazie alle radio, grazie al piccolo, grazie alla carta stampata, grazie agli incontri che si fanno abbastanza, grazie alle associazioni di volontariato, agli amici del cuore sui tarti, al cuore amico Muggia, a suoi diabetici, che promuovono tra i loro associati e con la popolazione queste forme di innovative che sono sfide veramente belle per noi da accogliere e difficili, con l'aiuto di tutti proviamo a farcela. Abbiamo, guardi, ancora una dai, la passiona il discorso sull'abolizione del numero chiuso per entrare nella facoltà di medicina o comunque… Impraticabile, impraticabile il numero chiuso, abolire il numero chiuso perché provi a immaginarsi se si apre tutto che dobbiamo costruire palazzetti per fare il primo anno le lezioni all'università, il problema non è il numero chiuso all'università, si può aumentare il numero, si può aggiustare qualcosa, il problema è che quello che manca, adesso non più perché da due anni i numeri sono adeguati, quello che mancava erano i posti sufficienti nelle scuole di specialità e nella formazione della medicina generale nel post laurea, perché se noi i pazienti laureati li facciamo specializzare, li prepariamo al mondo del lavoro, ne abbiamo più che sufficienza, non serve togliere il numero chiuso all'inizio, bisogna aumentare il numero dei posti nelle scuole di specialità, fino a poco tempo fa ce ne erano 8-9 mila a fronte di 15 mila laureati l'anno e quei 6 mila non avevano i posti di scuola, non è utile aumentare di 6 mila qua, ne abbiamo già 6 mila lì, hai capito? Grazie Dottor Di Lenarda per essere stato con noi, buon lavoro! Arrivederci a tutti, grazie! Andiamo in pubblicità, poi cambiamo argomento! Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, cambiamo decisamente argomento, siamo in compagnia di Enzo Semeraro che ormai quando si parla di culto musica è il riferimento principale, ma non solo per quanto riguarda culto musica. Poi abbiamo invece anche il Presidente del Circolo Giuliano di Brasilia, Max Lucic, che ringrazio per essere il nostro ospite. C'è in ballo una importante iniziativa che collega culto musica al Brasile, tanto parliamo di questo. Sì, piccole premesse, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. L'anno scorso durante i concerti di culto musica ho avuto il piacere tra gli ospiti di conoscere la console onoraria a Trieste, la Judith Moura di Oliveira. Si è avvicinata alla realtà di culto musica e alla fine, dopo novembre circa, mi ha chiesto se fosse il caso di portare culto musica in Brasile. È un'idea un pochino così diversa. Culto musica si è mossa in Vienna, in Europa, in Lausanna e l'Italia. Questa volta andare oltre il cena non potrebbe essere realizzata. Io ogni volta che sento pronunciare il nome della città di Lausanna non posso fare a meno di ricordare una battuta di Totò in Totò il medico dei pazzi quando diceva non lo sa nessuno. Lausanna non lo sa nessuno. È una roba che in questi giorni chissà perché mi tormenta. Siccome è già un paio di volte che sento dire Lausanna, allora a dato punto ho detto che adesso sono più tranquilli, non sono più sollevati. Ok, ok. Da quel momento abbiamo cercato di capire come, perché, quando. Abbiamo fatto delle riunioni online e durante una di queste riunioni con Brasilia abbiamo conosciuto Max che abbiamo la fortuna di avere qui a Trieste per un periodo. Così cerchiamo di mettere assieme non solo la parte artistica che riguarda me, che mi riguarda, però anche il fattore economico, il fattore sponsor. Da qui anche una riunione che abbiamo fatto la settimana scorsa con la vice sindaco Serena Tonel e con l'assessore Pierpaolo Roberti che ha delega per i cittadini nel mondo. Nel periodo successivo adesso metteremo a punto tutti gli elementi per concretizzare questa tournée che reputo positiva perché già il titolo è indicativo un po' di Trieste in Brasilia. Ecco tutto lì. Però diciamo che adesso abbiamo la fortuna di averlo lui e lui magari cercherà di farci capire anche le realtà perché funziona così, non è che gli sponsor li troviamo e dicono venite. Deve esserci una comparticipazione con l'Italia. Allora quando siamo sicuri che l'Italia, comune di Trieste, regione, sia partecipe economicamente, loro partono. Come diceva in una canzone di Barbara Streis, anzi come si diceva in un brano di Leonard Bernstein, si è half way there, è già un passo avanti. Allora parliamo intanto Presidente della realtà giuliana in Brasile. Noi non siamo, come posso dire, quando pensiamo ai giuliani nel mondo pensiamo a realtà vicine al Brasile, l'Argentina, il Canada, tanto per ricordare poi anche tutto quello che ci racconta Viviana Facchinetti che tra l'altro in questi giorni ha compiuto gli anni. Quanto è consistente la presenza della comunità giuliana in Brasile? Prima di tutto vorrei iniziare dicendo grazie per questa opportunità di essere qua con voi. Voglio solo dire signor Bosazzi che io nel mio, come dicevo prima, vivendo a Brasile a lungo degli anni, questo programma ti riesce a dire tutto che voi fate su Tele4 e mettete online, è una linfa vitale per noi, per me, è fatto un servizio unico per vivendo, vivere Trieste all'estero, leggendo il piccolo, assistendo voi su Tele4, perciò viva Tele4. Ok, grazie, grazie. E veramente i personaggi, tutte le persone chiavi che stanno facendo, creando cose a Trieste, voi le portate e noi le viviamo, cioè è come essere a Trieste, forse in un'altra dimensione, ecco, si parla di questo, essere triestino nel mondo, cosa significa? No, non la ringrazio, insomma, poi dopo queste cose mi anche imbarazzano un pochettino così che non sembra. No, no, la vedo in persona adesso e mi sembra, cioè letteralmente sa fan club, ecco, non scherziamo, è la verità, e oltre ciò ero qui sette anni fa grazie alla giornalista Viviana Facchinetti che mi aveva invitato quando aveva il programma Giuliani nel mondo qui. Gira a volta a Missia, la Facchinetti è sempre presente. No, è lei che mi ha portato qui la prima volta e poi a lungo delle varie stagioni che ha avuto un programma, cioè è un successo incredibile quel programma Giuliani nel mondo che faceva prima del Covid, della pandemia, il concetto delle conferenze al video con l'Australia, mi metteva il video altrimenti via Skype si partecipava. Si si legge di queste cose qua. Questo era anni prima che adesso è diventato moda, con Zoom e via di seguito per causa di questo mondo pandemico, perciò funzionava e ci univa e ci faceva conoscere e ci fa e oggi è consigliera anche nel direttivo del Giuliani nel mondo, AGM, perciò saluto e ringrazio, il suo compleanno era ieri, il mio compleanno era ieri pure, abbiamo il compleanno in comune, però io ero nato quasi a mezzanotte a New York, perciò in quel momento era già il 20 luglio che è oggi, così io commemoro tutti i due giorni, il 19 e il 20 luglio e sono felice, questo è un regalo per me di essere qui con voi. Allora, grazie, ripeto, poi mi imbarazzano anche queste cose. Comunque, ecco qua, com'è consistente appunto la comunità Giuliana in Brasile? Ci sono vari circoli, principalmente a San Paolo che è il circolo più antico, oltre 40 anni, poi abbiamo un circolo molto importante a Curitiba, il nostro circolo a Brasile è molto piccolo, ma già che lavoro lì all'Ateneo da molti anni ho creato un laboratorio di cultura italiana che si chiama Panorama Italiano Brasilia e insegnando l'italiano e la cultura italianistica metto un'enfasi speciale su Trieste, l'Istria e la storia del nostro esodo, io ho la nonna rovignese, anche là rovigno, sì sì, e Femia Tesel e poi sono cresciuto qua a Trieste, sono nato a New York, i miei genitori, mia nonna, mio padre, Mario Luciani Lucici aveva un'attività commerciale molto interessante a New York che era questo emporio che si chiamava Dal Triestino. Ah, come no? Io ci sono stato, io ero a New York nel 91 e mi correga se sbaglio, era vicino ai moli dove si partiva. Ma c'era davanti al Pier 23, il molo 23 che era lo storico molo che arrivava all'Italian Line, allora all'epoca negli anni 50-60 dei grandi transatlantici collegavano Trieste e l'Italia con New York. Quando ero in New York in quegli anni, nei primi anni 90, lì si partiva, penso si parte ancora la crociera che si fa lungo l'Alson. Sì, il Circle Line che ti porta attorno a Manhattan, certo, e in ogni caso, ma però quel negozio poi lo venderono poi negli anni 60 da una famiglia ebrea, ma continuarono col nome e quel negozio continuò fino all'anno 2000, tanto che lavoravano direttamente con l'Alitalia, scendevano i turisti italiani, arrivavano a New York e cercavano dal Triestino per cosa? Per le Ray-Band, per le Samsonite, per i Wrangler, cioè io a New York che ho lavorato per 15 anni, in vari incarichi, ero conosciuto come il figlio dal Triestino, ecco così, cioè questo collegamento New York-Trieste anche dovuto alla famiglia Lucic, che siamo noi, mio padre poi è cresciuto qua a Trieste come Mario Luciani, perché aveva il nome ovviamente italianizzato durante il fascio e poi quando è arrivato in America nel 1948 il governo americano non accettava il cognome del fascio e lui è l'unico in famiglia ritornato dal cognome Lucic, che sono molto grato a questo nome che mi ha portato molto fortuna. Allora, quando noi parliamo di cultura italiana in un altro paese, abbiamo probabilmente un'idea molto strana, molto particolare, per noi magari la cultura italiana potrebbe essere, il cinema ha un pochettino perso probabilmente, però siamo forse ancora legati a determinati stilemi d'antan, adesso che cosa significa portare, far conoscere la cultura del nostro paese in una realtà come quella brasiliana? Mettiamola così, su chi o su che cosa si punta? Prima di tutto si punta sul fatto che la società brasiliana è già un frutto di onde migratorie dall'Italia antichissime, perciò avere un cognome italiano in Brasile è molto comune, c'è una statistica che la Farnesina ci informa che siamo più o meno 30 milioni di italo discendenti nel Brasile, perciò, e così andiamo anche a San Paolo che è riconosciuta come la città nel mondo, una metropoli di quanti? Di 16 milioni, che è la città che ha più sangue italiano nelle sue vene, cioè la città più grande, italiana più grande nel mondo si chiama San Paolo do Brasil, oltre a ciò lì si parla con portoghese con quasi un accento italiano. Allora, quando tu ti presenti, io sono arrivato dalla mia realtà di New York che poi ho studiato, ho fatto le prime esperienze di lavoro e arrivo in Brasile, che mia moglie poi mi porta una lunga storia come sono arrivato in Brasile, ma in ogni caso devo ringraziare sempre mia moglie Sibeli Rebello che lavorava per Itamarati, che sarebbe la Farnesina italiana, brasiliana, che lavorava all'ONU per la missione brasiliana, era lì per un periodo di 5 anni, ci siamo incontrati, io lavoravo per l'Ice, istituto commercio estero New York e lei che poi mi ha definitivamente portato a Brasile, perché Brasile non si arriva per caso, è una città isolata dal mondo, a mille metri, in un plateau isolato, dove hanno costruito questa città futuristica che realmente è una cosa da vedere, tutti vanno in Brasile, visitano Rio de Janeiro, Salvador, però suggerisco Bahia, la nostra capitale Brasile, è una cosa da vedere, è un spot pubblicitario per Brasile, ma il fatto è, essere italiano in Brasile è una realtà così fantastica che uno non si sente che è all'estero, cioè tu sei elevato alle stelle, per esempio negli Stati Uniti se tu parli con British accent, everything opens, loro guardano, tutti gli accenti sono considerati inferiori, ma arrivi con British accent, negli Stati Uniti anche Hollywood apre le porte, in Brasile tu arrivi là, è una lingua, già un portoghese italianizzato per le onde migratorie, non è il portoghese parlato in Portogallo, è un portoghese molto più musicale, italianizzato, e pare il portoghese un accento italiano ovviamente, ce l'ho tuttora, apre porte, apre porte, perché tutto che Italia vende, San Paolo, città di Grattacieli, palazzo più famoso, edificio Italia, è il nome, edificio Italia, cioè essere italiano è un biglietto di vista. Ma è vero che, come dire, bisogna, questo è un esempio secondo me anche del provincialismo di noi italiani per certi aspetti, cioè bisogna andare fuori dell'Italia per capire quanto il nostro paese è amato in giro per il mondo, noi forse non ne siamo consapevoli, perché lo diamo forse anche per scontato secondo me. Guardi, io so solo una cosa, che è molti italiani, tutti gli italiani che conosco, che vivono la mia realtà a Brasile, ci sono molti, anche molti arrivati recentemente, quando si parla di una immigrazione lontana, c'era quella lontana, ma oggigiorno sono anche molto attivo col comit, scomitato di italiani all'estero, ho creato per la Farnesina una rete per aiutare gli italiani che arrivano adesso all'estero e molti arrivano in Brasile, cioè uno non si sente fuori casa, ho capito, io credo che in nessuna parte del mondo un italiano può andare a vivere e si sente più a casa che nel Brasile. Un mio amico, uno dei più cari amici che ho, lui è impazzito dietro il Brasile, ci è stato più volte e mi racconta appunto del fascino, una simpatia, solo sorrisi, solo sorrisi, cioè tu dici Italia un sorriso. Però è anche vero che quando si pensa a una realtà come quella del Brasile, è una realtà che ti induce, anche questa ti induce al sorriso, no? Giusto. Io sono dei paesi, io per esempio sono innamorato della Francia e ho una certa difficoltà a farla digerire ad altri italiani, perché la Francia nei nostri confronti, lo stesso capita con l'Inghilterra etc., sono nazioni che magari ti inducono ad un certo rispetto, ad una certa considerazione, raramente sono le nazioni che ti portano a sorridere e che effettivamente la sola idea ti mette a proprio agio. Io ero conoscenza del tuo amore per l'Inghilterra, non per la Francia. Anche per la Francia, anche per la Francia. L'Inghilterra e poi… Lo so, lo so. La Francia anche, perché è stata la meta del mio primo viaggio e quindi rimani folgorato da determinati posti. Non posso dire che anche io abbiamo questa cosa in comune, anche io sono molto francofono, perché mia madre è nata, è toscana, però è cresciuta fino a 18 anni in Corsica, ha tutta la sua educazione in francese e oltre a ciò mia madre che ci sta ascoltando in questo momento, Norina Storai, che qui con me è in viaggio, classe 1927, è felicissima di essere rientrata, anche lei considera Trieste la sua patria, perché questa è la bellezza di Trieste, Trieste è come il Brasile, Trieste accoglie molto bene le persone di fuori, il Brasile accoglie molto bene le persone di fuori e credo che questa è una sintonia che porta, adesso faccio questo collegamento, Trieste e Brasile hanno molto in comune. Può darsi, può darsi, noi siamo sempre un po' più duretti all'inizio, è una città che non ne fai, poi è una città che in realtà poi ti circonda, noi siamo un po' una città fintamente dura, nel senso che… Ma andiamo a Joyce, tutti quanti dall'estero si sono innamorati e sono rimasti qui per scelta, perciò c'è un fascino Trieste, io sono contento di essere all'estero e come il nostro direttore artistico sa, io sono appassionato per Trieste, ma credo che sono più innamorato di Trieste vivendo all'estero. Sì, questo posso capire. E quando ci torno è questo orgasmo, questa roba qui che è senza fine, che realmente mi dà una carica e dopo 4 anni lontano per causa della pandemia mi sto ricaricando le batterie, perciò è la base, questo mondo che abbiamo con tutte quelle nostre culture, sono andato sul tetto adesso, guardando la Slovenia, abbiamo tutto, abbiamo tutto. E forse dobbiamo essere più consapevoli noi che siamo qua. C'è una cosa che devo chiedere, poi è logico e Semeraro mi scuserà, ma insomma io avrei dato più spazio all'altro ospite anche perché abbiamo delle curiosità e delle cose che ti puoi immaginare, però dobbiamo ricordare, io credo di averlo già annunciato senza darle date né niente, però c'è anche questo appuntamento con un'altra Triestina illustre che è Daniela Barcellona che per il terzo anno tu porti a Trieste. È la terza edizione della Masterclass Canto Lirico Daniela Barcellona, era in dubbio se la facevamo, ho ricevuto la telefonata da parte di Alessandro Vitiello e di Daniela, mettiamola su e la facciamo. Allora dal 4 al 10 settembre ci saranno le lezioni, questa volta non alla Piccola Fenice ma le facciamo tutte al Verdi, d'accordo con il Verdi, con il Teatro Verdi e faremo le lezioni e la serata finale giorno 10 nella Sala Victor de Sabata, come l'anno scorso, uguale. Sai che giorno è? Il sabato e il domenica? Sì, domenica. Quindi rimane questo appuntamento che è un appuntamento anche di grande prestigio, poi in genere quasi sempre la Barcellona quando poi torna Natale al Rossetti. È tornata dall'Argentina, adesso è a Pesaro e tra 20 giorni circa rientra qui a Trieste. E poi sarà anche il nostro ospite che poi è sempre divertentissimo. Così magari ci spiegherà lei o ti spiegherà lei come ha intenzione di impostare questa Masterclass. E' una persona di grande cultura e anche di enorme umanità e simpatia che non guasta. Mi ha colpito quello che è stato detto adesso che ha riuscito, rientro dal Teatro Colón Buenos Aires. Colón. Colón. Che Colón è alto. Giusto, Colón Buenos Aires dove l'hanno definita apprezzata per la linea ampia, poggiata su un'emissione dalla solidità superba e quindi ferma, sicura, omogenea, con una morbidezza che il timbro fascinoso accentua e con uno sgranarsi delle colorature che restano tuttora senza paragone vincente. Noi tristini dobbiamo essere orgogliosi di avere una cantante che ci rappresenta nel mondo. Prima o dopo bisognerà anche dargli il San Giusto d'Oro, posto che non l'abbia già ricevuto o no. Sì. Il San Giusto d'Oro bisognerà dargli lo primo o dopo. Posso dire due parole al rispetto di questo? Solo per aggiungere a Trieste Has Talent, ok? Io ho una cugina che ha fatto la storia della lirica, ha cantato al Metropolitan e tuttora credo che Trieste l'ha riconosciuta, l'ha applaudita nel passato, ma voglio dare il nome e un saluto a Gloria Scalchi, perché realmente è un mezzo soprano che ha avuto negli anni 90, ha fatto Semiramide al Metropolitan, abbiamo avuto dei talenti e li abbiamo tuttora. L'altra sera, per coincidenza, sono andato per caso a assistere un concerto lì nel giardino del Museo Sartorio. Ok. Ti posso interrompere? Tieni presente che lui è un grande amico di quella persona che stai per dire? No, io sono rimasto fulminato, sono rimasto stregato da Stefania Seculin. Ha fatto un spettacolo e ha fatto voci femminili da Broadway, Operetta, Barbara Streisand, cartato in francese, in tedesco, io il tedesco neanche lo capisco, ma mi ha fatto piangere quando ho cominciato a capire. Letteralmente è quello che sono rimasto, era casa piena, 200 posti pieni, però sono rimasto perché, non è una critica, è un'osservazione ad uno che vive a maggior parte all'estero, perché il pubblico triestino è così duro. Il concetto di standing ovation non esiste qua. Ah no, figuriamoci. No, no, no. Io mi sono alzato, ho applaudito in piedi, ero l'unico, ma era una serata da morire divina, una serata gratuita e questo è anche il bello di essere qua a Trieste d'estate, tutti questi concerti, ma parlano di andare a Manhattan e a New York, ma questo batte qualsiasi parte del mondo le offerte che c'è ai culturali in questo periodo. Tra l'altro la seculina assieme ad altri suoi… Con Graziana Borciani, era quella sera… Ha fatto il medesimo spettacolo che avevano fatto alle piccole Fenice con me, Marlena. Hanno fatto delle canzoni insieme alla fine, quello è uno spettacolo bellissimo, e oltre a ciò tutte e due di una generosità e ancora nessuno si è alzato. E tra l'altro loro, Seculina assieme a Sticotti, La Colummi e a Darwin, saranno il 26 al Castello di San Giusto, poi lo presenterò io per cui sarà divertente anche quello con le canzoni della Disney. C'è un'altra cosa che volevo chiedere, è anche vero che noi per parecchi anni quando si parlava di Brasile da un punto di vista artistico, ci si limitava o alle canzoni ancora la Bossa Nova, Jobim, tutti questi enormi musicisti che hanno fatto veramente la storia. Basterebbe sentire la ragazza di Ipanema cantata da Sinatra per comprendere che cosa significa Jobim, ma anche nella storia nostra quotidiana, perché poi dopo questi artisti non hanno barriere. Però l'altro grande prodotto internazionale del Brasile fino a qualche tempo fa, lo dico sorridendo, erano le telenovella. Io appartengo a una generazione che tornava a casa da scuola e c'era Dancing Days, quindi sto parlando del 1982, se non ricordo male. Non dire questo. Ma ormai è risaputo. C'è da dire questo, io ho visto adesso un paio di produzioni brasiliane grazie a Netflix, grazie a queste piattaforme, è cambiato da così a così, cioè ormai la telenovela è un ricordo, le produzioni televisive brasiliane sono di una qualità notevole e dal punto di vista della fattura artistica. La Globo è un mostro. È rimasto ancora comunque la Globo, però è cambiata da così a così, cioè il modello della telenovela che a noi faceva un po' sorridere, eccetera, ormai non esiste. No, 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 le telenovela continuano fortissime e abbiamo tre orari sul canale principale della Globo e ognuno ha una clientela propria, però per esempio quello delle nove tuttora può influenziare il paese anche in elezioni politiche, parla sempre di argomenti attuali, ci sono sempre anche messaggi subliminali, c'è sempre una manipolazione fortissima, però il brasiliano, come posso dire anche mia moglie, addict, proprio viziati, si parla a tutti i livelli intellettuali e non si parla perché c'è qualcosa nella telenovela che loro hanno creato un prodotto che forse anche la lingua, non so se poi è tradotto ipnotizza, ma in portoghese ipnotizza, per esempio tu cominci ad assistere a due o tre programmi e non puoi smettere. Ma lì sono anche come negli Stati Uniti dalla tenuta lunghissima o no? No, 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 perché negli Stati Uniti ce ne sono... Quindi sono le soppopera che è un concetto completamente diverso. C'è un genero, qui sono nel pomeriggio per le casalinghe e c'è uno per esempio che va avanti da 40 anni, il genero Hasbro, cioè mia madre lo guardava quando eravamo in America, esattamente, però la durata può essere da 6 mesi, 8 mesi, così, come un anno al massimo. Un'altra circoscritta, però ripeto, forse magari quelle a cui mi riferisco non sono tanto telenovela, sono magari delle serie televisive gialle e cose, devo dire la verità, la fattura è veramente eccezionale, poi magari qualcuno potrebbe anche dire che c'è un livellamento totale verso l'alto, per cui non riesci più a distinguere ciò che è brasiliano da ciò che è colombiano, da ciò che è messicano, etc., se non per la lingua logicamente, però cioè avercene... Dobbiamo ricordarci però che il Brasile, siamo realisti, io sono privilegiato di vivere nel capitale federale, nella zone più nobili create nei palazzi di Niemeyer, però c'è l'altra realtà del Brasile, perché il Brasile realmente ha il nomignolo di Belindia, perché Belindia? Perché c'è il lusso del Belgio e la miseria dell'India e purtroppo la gran parte del paese vive in una grandissima miseria e questa è una realtà, da noi europei che guardiamo come riescono a vivere con salari così minimi, è una vita sofferta, però d'altra parte Dio li ha ringraziati con un paese dove c'è il sole tutto l'anno, non c'è mai l'inverno, c'è una natura generosa, tutto cresce tutto l'anno, butti una semenza, cresce, fa frutta, mangi la frutta, è un paradiso terrestre dal punto di vista ambiente, però ci sono anche delle contraddizioni spaventose, però c'è questa grande fede, è un paese non tanto religioso ma spiritualizzato, al punto che io rimango quando torno in Italia e vado in chiesa di domenica e ci sono quattro gatti, cioè in Brasile tutte le messe, non vuole essere cattoliche, ma stremiti, sembra Pasqua, sembra Natale ogni messa, cioè le file sentono la grande religiosità, è un paese estremamente cattolico, abbiamo più feste religiose cattoliche in Brasile che in Italia, c'è su Netflix proprio parlando di questo un prodotto brasiliano che si chiama Città Invisibile, che è uno sceneggiato su due serie che dà proprio conto anche di questo aspetto della vita in Brasile, questi culti anche animistici che delle volte vanno ad affermarsi ed è una serie fatta molto bene, città invisibile, se avete Netflix provate a guardarla, non rimarrete delusi, noi dobbiamo chiudere perché siamo davvero in chiusura, posso solo accennare hashtag Trieste sempre nel cuore, io ho creato da anni online, qualsiasi cosa che metto su Trieste a lungo degli anni ho messo hashtag Trieste nel cuore, questo hashtag Trieste nel cuore io pensavo che era una cosa tanto originale, ma di fatto nessuno l'ha mai pensata, se uno mette allora hashtag Trieste nel cuore vede la mia visione di Trieste all'estero e anche quando sono qui, il mio diario di come io vivo Trieste nel mondo. Allora intanto ci diamo una rivederci a questo punto, magari vedremo anche poi come si sviluppa tutte queste cose, noi stiamo in contatto così la raccontiamo, io ringrazio Enzo Semelaro che uno ne fa veramente 100 ne pensa e anche Max Lucic che è il presidente del circolo Giuliano di Brasiglia. Buon lavoro a entrambi, noi ci vediamo oggi e giovedì, quindi noi ci vediamo domani, domani è la puntata in genere dedicata alla cultura. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste.